Allora, iniziamo. Volevo iniziare a condividere con voi una foto che, anche questa l'avevo già un pochino anticipata su Instagram, una foto che mi ha girato il mio amico e collega, ma soprattutto caro amico Aldo, sulla famosa, speriamo che tutto presto torni alla normalità, no? Quest'altro tormentone che sta un pochino girando. Ecco, questa foto che adesso la regia dovrebbe mandare, se tutto va bene. Eccola. Questa è molto, molto precisa su quello che cerco di spiegare anch'io da giorni, nel senso che lo scopo non è ritornare a quello che ha creato tutto questo, nel senso che quella normalità che tanti di noi stanno invocando sono esattamente le condizioni che ci hanno portato a questo punto qua. E sempre come dicevo un pochino i giorni scorsi, ciò che ci ha portato qua non ci può portare oltre. Ecco, quindi se vogliamo andare oltre, se vogliamo risolvere e stare meglio, non dobbiamo ritornare lì, ma dobbiamo raggiungere e mantenere un livello di coscienza, di presenza molto, molto più elevato, molto più alto. Ecco, mettiamola così, insomma. Quindi è scritto in spagnolo, ma mi sembra molto, molto chiaro. Ecco, insomma. Quindi questa è la prima cosa che avevo il piacere di condividere con voi. Intanto saluto Anna, Giada, Roberta, Elisa, Marta, Simona, quanti siamo? Sonia. Bene, bene, ben arrivati. Grazie, grazie mille per esserci. Ciao Elisa, ciao Cinzi. Poi ci sono anche un po' di domande che sono arrivate a seguito della diretta di venerdì sera, che adesso vi vado a leggere e rispondo un po' a tutti. Nel senso che a tutte queste persone che mi hanno fatto queste domande, alcune, tra l'altro, in due o tre mi hanno fatto la stessa domanda, quindi è ancora di più vale questo discorso che sto per fare. Preferisco rispondere in pubblico, proprio perché penso che la risposta possa aiutarci, aiutare un po' tutti, insomma, no? Allora, la prima domanda veniva da Stefania, che mi chiedeva appunto, facendo un piccolo passo indietro, l'argomento di oggi è linguaggio, chakra, nello specifico terzo e quinto chakra e sistema immunitario. E lei mi chiedeva come mai terzo e quinto, nel senso che la domanda era più che legittima. Sicuramente tutti i chakra, il linguaggio influenza tutti i chakra e tutti i chakra influenzano il sistema immunitario, quindi su quello non c'è dubbio. Avremmo potuto parlare di qualunque coppia o singolo chakra senza sbagliarci, avremmo potuto parlare di tutti e sette i chakra nuovamente, ma ho scelto di parlare del terzo e del quinto in questo momento, perché secondo me sono quelli più sensibili, più a dura prova in questo momento, ma anche su quelli più facilmente auto-influenzabili, più soggetti a un'auto-guarigione, a un'auto-miglioramento che possiamo fare tutti noi a partire da adesso. Ecco, quindi è solamente per questo motivo qua. Intanto ciao Sara, ciao Barbara, ciao Roberta e ciao Sabrina. Ce l'hai fatta, bene, sono contento, ben arrivata. Poi, un'altra domanda che mi hanno fatto, che mi hanno fatto Nadia, è se gli animali abbiano i chakra. Io, quando me l'ha chiesto un paio di giorni fa, gli ho risposto che non lo so, nel frattempo, o meglio non lo so, nei testi che io ho letto fino ad oggi non ho mai trovato scritto niente a riguardo. Pensandoci, inizialmente ho pensato di no, perché ho pensato che gli animali, credo, che non abbiano pensieri, nel senso che l'animale ragiona per istinto, quindi non ha pensieri. Ragionandoci sopra meglio, gli animali però sicuramente hanno delle emozioni. Ci è evidente a tutti, come al minimo rumore, il gatto scappi, l'uccellino scappi, il cane scappi, o alzi la coda, o scodinzoli il cane, o anche il gatto, faccia le fuse, eccetera. Quindi quelle sono emozioni, sono stati di gioia, sono stati di paura, sono stati emotivi, quindi sicuramente hanno delle emozioni. Quindi è possibile, sono possibilista sul fatto che gli animali abbiano i chakra, sono ancora più possibilista sul fatto che gli animali in natura hanno sicuramente un'armonia energetica, un'armonia dei chakra, in cattività, quindi gli animali che condividono lo spazio con noi, sono la proiezione dei nostri stati emotivi. Anche questo credo che a chi vive con uno o più animali è evidente, come l'animale percepisca perfettamente i nostri stati emotivi, come percepisca se noi siamo arrabbiati, se siamo tristi, se siamo felici, eccetera, eccetera. Quindi la nostra felicità influenza sicuramente positivamente la felicità di chi ci sta attorno e quindi anche degli animali che ci stanno attorno, ecco. Quindi questo è un po' il mio pensiero. Susanna, si hanno un'energia anche loro? Sì, sì, certo, non è che hanno un'energia, sono un'energia, quindi sicuramente sì, certo. Chakra ed energia non per forza vanno di pari passo, comunque sì, sono d'accordissimo con te. Ho voglia di ascoltare e condividere, grazie Anna, grazie, grazie, grazie. Poi un'altra domanda, sono arrivate tante domande, vi ringrazio. Anzi, questa la vado a leggere, di Katherine. Allora, come si esce completamente dalla gabbia sociale, dai condizionamenti sociali e dall'influenza che il luogo dove siamo nati, il periodo dove siamo nati, la famiglia dove siamo nati, lo stato dove siamo nati, generi, tutta una serie di convenzioni sociali in cui noi cresciamo. Si esce con quella che Jung, tuo conterraneo svizzero, tuo di Katherine, chiama individuazione, quindi col rendersi conto che siamo degli esseri che hanno un corpo e che hanno una mente, che solo temporaneamente sono incarnati in quel tempo lì, ma che appunto sono degli esseri eterni, mai nati e mai morti, quindi che quello è solo un passaggio. Quindi più io mi identifico con me stesso, quindi con la mia vera ed unica natura di essere spirituale, meno mi identifico con l'Edoardo, innanzitutto col nome, perché io non sono Edoardo, io sono uno spirito a cui hanno dato il nome di Edoardo in questo corpo qua. Hanno dato la cittadinanza italiana, la residenza a Gallarate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io devo togliere per ritornare, per uscire dalla gabbia sociale, per aprire quelle sbarre che sono nella mia mente, che avvolgono la mia mente. Quindi questa era la domanda di Katherine. Poi invece un'altra domanda, ed è l'ultima, mi chiedevano, in due o tre persone, Laura, Giulia, Francesca, anche Enrico, mi chiedevano circa gli psichedelici, utilizzavano giustamente la parola, giustamente secondo me, e anche secondo loro evidentemente, visto che l'hanno usata, la parola, gli psichedelici come scorciatoia per la meditazione, per la percezione profonda, per uscire dal corpo, per fare tutta una serie di viaggi extracorporei. Katherine, ben arrivata, spero che tu abbia assistito alla risposta alla tua domanda, se no poi le puoi recuperare dopo. Allora, gli psichedelici sono sicuramente delle scorciatoie, però è un po' come barare al solitario, nel senso che se possono aiutare un pochino da una parte, e non lo dico io, nel senso che se la domanda fosse stata cosa ne penso io, io sono contrario, sono contrario all'uso di droghe e all'uso di cose esterne per riuscire ad arrivare all'obiettivo, a meno di casi ovviamente estremi ed eccezionali. In generale ci sono molti studi sull'LSD, soprattutto. non vi sto dicendo di drogarvi, io sono, ripeto, assolutamente contrario. Ci sono però molti studi che non ho fatto io, che non hanno fatto i primi che passano, ma che hanno fatto università, che hanno fatto fior fior di psichiatri e psicologi, negli anni 60, naturalmente, dico naturalmente perché è lì che sono nate poi tutte queste droghe sintetiche. Gli studiosi, gli psichiatri e psicologi in questione soprattutto sono Timo Tiliri, sono Allen Gisberg e a margine anche Jack Kerouac, quello un pochino più famoso in Italia, che sicuramente ha fatto largo uso di queste sostanze qua. Timo Tiliri è sicuramente il più accreditato che ha fatto questi studi qua per delle università americane, quindi non nel suo laboratorio sotto casa. ci sono anche tanti libri che ne parlano, c'è il libro che adesso non ho qua, comunque se lo volete cercare, in italiano è stato tradotto con California, con la K, non so perché, che è molto molto interessante da questo punto di vista, parla non solo di quello, dove appunto si dice che come l'utilizzo dell'LSD abbia facilitato questi viaggi qua. Nello stesso libro si parla anche però di quando lo stesso Liri ha fatto provare questa LSD a Nim Karoli Baba, un Baba, un Guru indiano, il quale si è sparato una bottiglietta di LSD e non ha mutato per nulla la sua condizione, quindi ha voluto dimostrare che la mente se ce ne fosse bisogno è più forte di qualunque altra cosa. Quindi gli psichedelici possono essere una scorciatoia che secondo me non vale la pena usare, nel senso che la nostra mente è assolutamente in grado di fare la stessa cosa senza gli psichedelici, il nostro corpo ugualmente, quindi alleniamoci, mettiamoci un pochino più di pazienza, anche perché se ci arriviamo con le nostre forze siamo poi in grado di ritornarci senza dover assumere delle sostanze che poi comunque generano dipendenza. Ecco, quindi questo è un po' il mio pensiero a riguardo degli psichedelici. Intanto non so se avete qualche domanda, intanto saluto Tania, saluto Dana, saluto Luigina, Wanda e Carla che sono arrivate, grazie, ben arrivate. Intanto che voi pensate se avete qualche domanda o trovate il coraggio di iscriverla, vi ricordo i contatti che stanno anche passando qua sotto, vi ricordo il canale YouTube che è Edoardo Cicconi, se non lo avete ancora fatto vi chiedo gentilmente e vi invito ad andare a iscriverti, iscrivervi è assolutamente gratuito, basta schiacciare il tasto iscriviti al canale YouTube Edoardo Cicconi all'interno del quale troverete tutti questi video, ne troverete altri 100 e passa e troverete 20 e più meditazioni guidate accompagnate dalle campane tibetane su vari argomenti di varia durata che quindi potrete fare quando volete e dove e dove vorrete. C'è il sito che è Edoardo Cicconi.it e la pagina Facebook che è Concerto Meditativo anche qui se non l'avete ancora fatto un bel tasto mi piace e un bel tasto segui e ve ne sono molto molto grato. Ciao Mara e ciao Sara. Allora, adesso prima di arrivare all'argomento del giorno che è appunto linguaggio, terzo e quinto chakra e sistema immunitario vi voglio continuare anche con la rubrica citazioni e aforismi che anche questa ha riscontrato un buon successo nelle puntate precedenti. Siamo sempre naturalmente a marzo oggi il 22 marzo 2020 quindi la situazione che ci circonda è problematica. Non serve ripeterlo e non serve dirlo continuamente ma lo sappiamo. Rumi, un poeta che forse molti di voi conoscono, un poeta sufi che molti di voi conoscono ci dice che nel momento in cui noi accettiamo i problemi che ci sono stati assegnati allora e solo ad allora le porte si aprono. Quindi ogni cosa ciao Mara e ciao Gaia bene, sono contento tu ce l'abbia fatta. Nel momento in cui noi accettiamo i problemi che ci sono stati posti allora noi mettiamo in atto la risoluzione dello stesso ma finché noi mettiamo un muro quindi il muro della non accettazione fra noi è il problema non potremmo mai entrare in contatto in connessione col problema e quindi è impensabile il poterlo risolvere. Noi possiamo io posso risolvere il problema del coronavirus? No. Io posso risolvere il problema della mutata condizione che il coronavirus ha portato nella mia quotidianità. Ecco, su quello che io posso assolutamente andare a lavorare. Posso andare ad incidere e ad agire. sempre riguardo ai problemi alle problematiche in questo caso ci viene incontro Einstein io ho parlato in altri video in molti video di quelli in cui ho fatto sottolineo la bellezza e l'importanza della curiosità dell'essere curiosi del porsi delle domande dove il porsi la domanda è già l'inizio della risoluzione del problema e lo scopo del porsi la domanda non è il trovare la risposta oggi o domani ma è mettere in atto da subito tutti quei processi che forse un giorno mi porteranno a trovare la risposta se troverò la risposta bene se non la troverò va bene lo stesso ho comunque fatto un percorso ho comunque ascoltato il mio corpo la mia mente l'ambiente che mi circonda e l'ho adattato e mi sono adattato per poterne trarre e vivere al meglio in quelle situazioni lì l'importanza della curiosità la sottolineava già Einstein 70 anni fa dove sicuramente la robotica e la problematica della sostituzione del lavoro umano con il lavoro meccanico era molto 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 più bassa rispetto ad oggi ed Einstein cosa ci diceva vado a leggere sul mio solito libricino rosso un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i nostri problemi ma mai nessuna di queste macchine potrà porne uno e questo è fondamentale nel senso che lo scopo dell'uomo è proprio quello lì è il farsi delle domande e questo è una cosa che non muterà nel tempo quindi quella è la nostra la nostra vera missione non essere preoccupati di quello che accade non avere paura che le macchine possano sostituirci o cose o cose di questo tipo molti di voi mi hanno ciao Claudia ciao Emanuele ciao Elena ciao Mariglia ben arrivata e ciao Odette ben arrivati anche a voi siamo molti anche oggi grazie sono davvero molto molto contento mi fa piacere dicevo che molti di voi mi hanno mandato messaggi di speranza o di fiducia nel senso di dire beh sono contento che molte persone si stanno accorgendo che la realtà che stavamo vivendo prima non va bene dovremo mettere in atto delle condizioni un modo di vivere diverso un modo di vivere più rallentato e nelle mie letture visto che poi il caso non esiste nella mia lettura di Vandavana Shiva che è una donna un attivista una politica non so bene come inquadrarla ma è un essere umano e indiano che ha detto in pochissime righe ha centrato esattamente il punto il punto non è quanto le nazioni ricche possano dare alle nazioni meno ricche il punto è quanto meno le nazioni ricche siano disposte a prendere dalle nazioni povere o cosiddette povere perché il punto è proprio lì non è che ci siano territorio nazioni ricche e povere né di risorse né di contenuti né di nulla è semplicemente che le nazioni ricche hanno in passate stanno continuando a prendere tantissimo alle nazioni povere quindi quello è il punto quella che Beppe Grillo ma non solo lui hanno definito una decrescita felice quello è sicuramente sicuramente l'obiettivo auspicabile che chiaramente non è vivere nella caverna o nel bosco può anche essere quello ma difficilmente il downgrade è molto molto complicato ma semplicemente accontentarsi di un pochino meno è quello che anche anche Terzani diceva che nel momento in cui questo libro forse ce l'ho in cui Terzani nel ultimo giro di giostra un altro giro di giostra scusate diceva che nel momento in cui noi ci accorgiamo della bellezza della natura della bellezza degli alberi della bellezza di tutto ciò che ci circonda di che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno davvero di una macchina nuova di un orologio nuovo di un cellulare nuovo no quindi su quello secondo me c'è da intervenire da agire ad operarsi affinché funzioni nella maniera corretta bene i primi 20 minuti di premessa li abbiamo fatti come al solito mi raccomando se avete delle domande se volete intervenire scrivete scrivete nella chat meraviglioso libro sì certo io amo sicuramente Terzani con tutte le sue contraddizioni attenzione nel senso che poi una delle critiche che fanno tante persone che si definiscono spirituali o spiritualiste è sì ma Tiziano Tiziano in fondo non ci credeva fino in fondo ma meno male nel senso che lo scopo non è crederci lo scopo secondo me ovviamente non è la fede cieca lo scopo è farsi delle domande come già dicevo prima quindi in quello lui secondo me è stato bravissimo lì è stato il vero impatto suo nella cultura italiana occidentale ma sicuramente italiana è stato proprio nel farsi delle domande e nel vivere nell'esperienziare le risposte ciao anche ben arrivata ciao Chiara siamo super international oggi bello allora quindi arriviamo al tema di oggi tanto vedo che non avete domande ciao Tania bene ben arrivata anche a te dico se non avete domande se non state dormendo possiamo fare possiamo andare avanti allora linguaggio positivo perché secondo me è così importante soprattutto oggi più che linguaggio forse mi autocorreggo subito è comunicazione quindi sia in entrata che in uscita che è fondamentale soprattutto oggi i nostri sappiamo e sentiamo spesso dire come il pensiero crei ma il pensiero crea che cosa non è che il pensiero crea la tazza questa è una visione nostra di cultura materialistica occidentale che ci ha portato che ci porta a pensare quello che ci porta a pensare che col pensiero creavo il mio bel lingottino d'oro ma il pensiero crea delle reazioni nel corpo il pensiero modifica il corpo modifica il dna modifica la realtà che mi circonda questo sicuramente sì ciao Sara ben arrivato però chi crea il pensiero è la parola che crea il pensiero è il linguaggio è la comunicazione quindi la parola sia quella che esce direttamente dalla mia bocca sia quella che entra nelle mie orecchie che va a generare a creare a modificare a plasmare il pensiero quelli che possiamo anche definire come i condizionamenti sociali quindi è per questo che oggi in un 22 marzo 2020 è importante selezionare con molta molta cura gli input per quello che io tutte le dirette che ho fatto vi chiedo e vi imploro di guardare 10 minuti al giorno la televisione o quantomeno i telegiornali poi se vi volete vedere documentari serie o i miei video fatevelo serenamente ma l'informazione è assolutamente disinformazione non perché non sia vero il coronavirus e tutta quella parte lì assolutamente no ma perché è inutile continuare ad abbassare il sistema immunitario il livello di coscienza con morti distruzioni immagine dei carri armati con l'esercito a me non è che interessa se quei carri come leggo in giro fossero pieni vuoti o se fossero più o meno dell'anno scorso il problema è che non devono andare dei carri militari a prendere delle persone e se lo devono fare per circostanze i telegiornali non devono farmelo vedere così tanto ecco su questo io non ho dubbi nel senso che quello genera paura genera ansia genera terrore sfido chiunque nel vedersi un carro militare passare per strada a provare gioia felicità e serenità insomma ecco quindi poi correggetemi se sbaglio naturalmente ma questo è un po' il mio pensiero non privo di giudizio ma tant'è sono umano e in quanto tale mi vivo anche questo aspetto del mio essere umano quindi cerchiamo di limitare al massimo gli input negativi dall'esterno una volta che io ho spento la televisione o quantomeno non metto sul canale della della guerra dell'informazione guerra disinformazione nel momento in cui io non leggo su facebook tutte le varie minacce cose varie a quel punto cerco anche di non circondarmi di persone che tutto il giorno mi parlano di quello che tutto il giorno mi parlano di morte distruzione eccetera eccetera e a quel punto però non devo essere neanche io a influenzare negativamente il mio pensiero e quindi il mio stato d'animo il mio stato d'essere per questo io insisto sempre molto sull'usare un linguaggio esatto Roby esattamente è importante straboccare di positività di positivo certo assolutamente sì io insisto molto sul linguaggio positivo che parte dal non usare le parolacce può sembrare una cosa forse infantile o bambinesca ma già nel fatto che alcune parole non siano parole ma siano parolacce la parola parolaccia ha già un'accezione negativa quindi intrinsecamente mi porta negatività inoltre la parolaccia è una parolaccia non in quanto tale ma perché fin da piccolo mi hanno insegnato e credo anche a te anche a voi che ci sono delle parole buone e delle parole cattive delle parole che posso usare o delle parole che non posso usare delle parole che sono parole e delle parole che sono parolacce quindi nel momento in cui io dico o sento quella parolaccia nella mia mente è chiaro che rievoca tutta quella parte lì negativa di negatività sia razionale che irrazionale sia conscia che inconscia sia di pensiero sia di emozione per quello che secondo me è importante non usare le parolacce le parolacce possono minare così tanto il mio sistema psico emotivo no però tutto fa brodo quindi vegetale naturalmente quindi cerchiamo di di prendere poco di 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 cogliere tutte le piccole cose che possono aiutarci a fare stare a farci stare meglio o a farci stare bene per meglio dire quindi se l'un per cento della mia negatività è dato da quello beh togliamolo così è un un per cento che io regalo senza fare nulla col minimo sforzo al positivo allo stare bene e al benessere e poi cerchiamo anche di toglierci il è difficile non ce la faccio non ce la posso fare non sono in grado e tutta questa parte qua perché se io sto tutto il giorno a dirmi non sono in grado non ce la faccio sono uno sfigato è chiaro che poi quella diventa la mia realtà ricordiamoci che la parola genera il pensiero e il pensiero genera la realtà quindi per la proprietà credo transitiva la parola genera la realtà che mi circonda quindi se io mi identifico con quello che non ce la fa col perdente col malato con lo sfigato o con qualche altra figura negativa poi io ci divento non c'è dubbio su questo quindi sempre sempre positività positività che è autostima e qui arriviamo al terzo chakra e finalmente arriviamo al punto dei chakra e perché questi chakra il terzo chakra è la sede intanto richiamiamo in aiuto il caro il caro amico Edo chakra ciao ben arrivato facciamo anche una coccolina il caro amico Edo chakra il terzo chakra che è a partire dal piccolo riassunto i chakra sono sette il primo è la base della colonna vertebrale e poi a salire fino al settimo il terzo è quel puntino giallo che è eh no niente vabbè comunque che è qua è all'altezza del plesso solare del diaframma della bocca dello stomaco ed è la sede dell'autostima l'autostima è il quanto io voglio bene quanto io amo me stesso nella nostra cultura l'autostima viene equiparata ad arroganza quindi no non dire così sei un arrogante ti credi meglio di me ecco il credersi meglio di qualcuno è sicuramente arroganza ma il credersi bravi molto bravi belli bravi e intelligenti non è arroganza è autostima quindi su quello noi possiamo serenamente sentirci autorizzati a dircelo dieci cento mille volte al giorno se abbiamo qualche piccola inibizione che afferisce anche quella al terzo chakra quindi autostima inibizione sono le due facce della stessa medaglia iniziamo a farlo magari da soli magari in bagno magari davanti allo specchio magari alla mattina dicendo semplicemente io ce la faccio io sono in grado di affrontare me stesso la realtà che mi circonda le sfide o le sfide non i problemi che la vita di risolvere i problemi che la vita che la quotidianità mi mette mi mette d'innanzi ecco questo è un ottimo modo un ottimo modo meditativo per iniziare la giornata dove meditazione è fare qualcosa con attenzione e intenzione quindi non uscire dal letto e ritrovarsi al lavoro senza neanche sapere dove si è passati e cosa si è fatto e poi ritrovarsi a casa a letto e via ma dando valore dando importanza ad ogni singolo gesto che andiamo a fare quindi anche l'aprire gli occhi nel letto anche l'accorgersi di essersi svegliati anche l'essere felici per avere altre 24 ore davanti è una meditazione il darsi un feedback positivo un alzare la propria autostima fa parte della meditazione all'ennesima all'ennesima potenza quindi anche in questo caso sentiamoci assolutamente autorizzati a far intanto Daniela non ci avevo mai pensato alla funzione negativa della parolaccia va bene eh sì 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 certo anche quella è assolutamente così nel senso che ripeto le parole oltre che avere una loro vibrazione che sicuramente è così c'è poi tutto il significato che noi diamo alle parole per quello che è molto importante scegliere le parole è anche vero che lo spesso da me citato Vergonzoni ci dice che non siamo noi a scegliere le parole ma sono loro a scegliere il momento in cui palesarsi ed è assolutamente vero però anche nel momento in cui io ho una reazione negativa o di rabbia se io sono abituato a ripetere una qualunque delle tante parolacce a disposizione è chiaro che andrò lì o che mi si paleserà quella parola lì se io riesco a incanalarla verso un'altra parola già do comunque sfogo alla mia rabbia quindi non tenendola dentro ma usando una parola che non aumenta ancora di più quella negatività ma semplicemente dà sfogo a quel sentimento a quella sensazione a quelle emozioni di rabbia di rabbia momentanea e poi passa insomma e poi la lascia andare ciao Manuela e ciao Silvia ben arrivate anche voi allora quindi ritornando sempre al terzo chakra il colore di riferimento è il giallo quindi se noi vogliamo aumentare la nostra autostima se noi vogliamo dare diminuire la nostra inibizione è molto molto utile sfruttare quindi vedere usare anche mangiare come chiedeva credo Nadia l'altra volta il colore giallo che è sicuramente la vibrazione la frequenza di riferimento al terzo chakra l'elemento abbinato è il fuoco e il fuoco è l'elemento di Shiva è l'elemento della trasformazione quindi io posso essere in grado di trasformare le mie emozioni in qualcosa di positivo posso essere in grado di trasformare le mie emozioni tutte le mie emozioni in positività in qualcosa che mi possa fare del bene che mi possa essere utile al mio sviluppo e all'alzamento del mio livello di coscienza teniamo sempre molto ben presente questo che noi abbiamo quotidianamente il potere di trasformare quello che ci capita in quello che vogliamo o di subire quella trasformazione lì o di sprecare un'occasione nel senso che se io ho la possibilità se io sto morendo di sete e ho questa tazza qua è una mia scelta scegliere se morire di sete o se bere questa tazza qua è il contenuto della tazza ovviamente quindi ricordiamoci sempre che la scelta e la possibilità l'abbiamo sempre l'opportunità l'abbiamo sempre sta a noi utilizzarla a nostro favore utilizzarla a nostro sfavore o non accorgersi che c'è un'altra cosa che io afferisce al terzo chakra è il potere di trasformare il pensiero che abbiamo visto prima quindi il linguaggio genera il pensiero la trasformazione del pensiero passa attraverso il terzo chakra che ha il potere di trasformare il pensiero in azione come faccio per trasformare il pensiero in azione innanzitutto non devo essere inibito nel farlo abbiamo detto prima che la medaglia del terzo chakra è autostima e il lato scuro il lato negativo è l'inibizione quindi io devo girare la medaglia e guardare solo il lato dell'autostima quindi io penso di voler fare quella cosa lì il terzo chakra il lato negativo mi dice ma no dai non farlo non sei in grado di farlo io invece ho una buona autostima ho un'autostima alta ho una consapevolezza alta di me stesso e delle mie possibilità e dico ce la faccio provo dove il provo è già il vincere l'inibizione poi il trasformare il provo in ce la faccio fa sempre parte dell'autostima ma quando ci proviamo poi spesso 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 davvero ce la facciamo quindi è davvero solo trovare il coraggio di fare e di non lasciare che si disperdano questi pensieri qua ciao edo noi siamo causa e non effetto dipende nel senso che innanzitutto è importante non confondere causa e effetto saper riconoscere ciao tanto Giorgia ben arrivata il saper riconoscere e dare una collocazione a causa ed effetto non invertirle e non scambiarle dopodiché noi possiamo anche essere l'effetto anzi noi siamo sia causa che effetto noi stiamo proprio nel mezzo noi abbiamo la possibilità di trasformare una causa in un effetto una causa sia positiva che negativa in un effetto sia positivo che negativo quindi sta proprio lì il nostro potere quello che in sanscrito si chiama karma c'è una ho fatto una conferenza la trovate sul canale youtube Edoardo Cicconi si chiama karma e reincarnazioni in cui racconto proprio del karma quindi parlo proprio di questa cosa qui cioè la scienza del causa effetto semplicemente e molto basilarmente sul terzo chakra penso di aver aggiunto di aver aggiunto tutte quelle cosine che avevo detto l'altra volta il linguaggio no manca il pezzo del sistema immunitario il sistema immunitario è espressione diretta del nostro stato psico emotivo psico fisico c'è la sipnei la psico psico neuro endocrine immunologia che le neuroscienze che ci raccontano esattamente questa cosa qua di come il mio pensiero i miei pensieri le mie emozioni vadano ad influenzare proprio in maniera biochimica anzi la mia biochimica del mio sistema immunitario del mio sistema endocrino la mia produzione di di difese immunitarie la stessa cosa ci dicevano come al solito i Veda 5.000 anni fa noi ci abbiamo messo un po' per arrivare alle stesse conclusioni ma alla fine ce l'abbiamo fatta anche con i nostri studi e la nostra visione occidentale inoltre se io ho un'autostima bassa è per forza di cose io abbasserò il mio sistema immunitario perché se io penso non ce la faccio io non ce la penserò se io penso non ce la faccio a scalare quella montagnola lì io penserò non ce la faccio neanche a allontanare a non far entrare quel raffreddore è automatica la cosa quindi avere una buona autostima è sia prevenzione che cura di tutte le varie vicissitudini che vanno ad influenzare il mio benessere interiore fisico in questo caso il quinto chakra adesso interviene è lo snodo un altro snodo principale sempre appunto il motivo per cui ho scelto oggi di parlarvi di terzo e quinto chakra il quinto chakra che edo no edo chakra ci indica con il colore blu è il chakra della gola ed è il chakra appunto della comunicazione che è quello di cui abbiamo parlato finora su cui abbiamo riflettuto finora quindi è chiaro che se io per questo che è importante ecco perché se io utilizzo un linguaggio negativo vado ad influenzare negativamente tutti gli altri miei chakra se io utilizzo un linguaggio positivo vado ad influenzare positivamente tutti gli altri miei chakra comunicazione che è appunto sia in uscita ma anche in entrata quindi se io mi circondo di persone che vadano ad aumentare la mia positività vado ad influenzare positivamente i miei chakra e quindi il mio benessere e quindi il mio sistema immunitario viceversa se io mi circondo di negatività di persone che parlano male di me parlano male di loro stesse parlano male o citano o citano momenti negativi della loro vita della loro realtà o si lamentano tutto questo va per forza di cosa ad avere un peso emozionale un peso fisico di malessere fisico anche su di me come già detto in credo tutti gli altri video la lamentela non è una buona strategia e anzi non è per niente una strategia quindi il lamentarsi non serve se non a farmi sprecare energia nel senso che il problema della lamentela è almeno duplice quello che oltre a non aiutarmi va a consumarmi energia va a farmi sprecare l'energia che io potrei indirizzare verso qualcosa di positivo io la spreco per una inutile lamentela e spreco anche tempo innanzitutto che è la vera nostra ricchezza che abbiamo a disposizione tanto saluto Manoji ben arrivato o ecco Manoji Super International oggi Christine Joe Jackie e Ivana ben arrivati ben arrivati anche voi il il quinto chakra quindi la parola è importante utilizzare un un linguaggio positivo è anche importante andare a giocare con pensieri ed emozioni quindi ad influenzare i due emisferi che ci stanno dentro qua i due emisferi del nostro cervello quindi la parte del io voglio arrivare lì io voglio raggiungere quell'obiettivo io voglio ottenere quel risultato io voglio stare bene io voglio essere felice e poi la parte emotiva io mi merito di essere felice io mi merito quello risultato e il io mi merito è proprio quello che va ad afferire all'autostima e da qui il motivo appunto di questa combo terzo e quinto chakra e sistema immunitario di oggi della riflessione della chiacchierata odierna mi rendo conto di aver parlato un po' senza chiedervi se avevate delle domande o dei dubbi se le avete scrivetele intanto che io vado a bermi un po' di teino insieme virtualmente alla mia amica Betty Queen Betty non avete domande? no allora posso posso andare avanti in realtà quello che sostanzialmente volevo dirvi ve l'ho ve l'ho abbastanza detto ci terrei a sottolineare proprio l'importanza della quotidianità della riprogrammazione del nostro cervello e della nostra visione della realtà una delle domande dell'inizio è come faccio ad uscire la vado a riprendere così non la sbaglio ecco come faccio ad uscire completamente dalla gabbia sociale ecco riprogrammando la mia realtà riprogrammando la mia gabbia sociale riprogrammando i miei usi i miei costumi quindi non lasciando la programmazione delle mie abitudini e della mia realtà ad altri mano ad altri ma prendendo in mano questa responsabilità che come tutte le libertà comporta una responsabilità ma io posso farlo ho il potere di farlo ho il sì di di poterlo fare e quindi conviene farlo vale la pena farlo per farlo naturalmente come tutte le usanze di questo tipo non basta farlo una volta non basta usare la bacchettina alla Harry Potter sempre che Harry Potter avesse una bacchettina non sono un fan della saga vabbè comunque devo farlo devo farlo e conviene farlo tutti i giorni perché più lo faccio più riesco a a sveltire la pratica e a mantenere la pratica nel senso che sicuramente poi la realtà che mi circonda che ci circonda non porta in quella direzione lì o non ancora qualcosa sta cambiando io auspico che questo shock mondiale porti nella giusta direzione non lo so ma so quello che sto da anni facendo su di me che continuerò a fare quindi a tendere verso l'alzare il mio livello di coscienza verso l'uscire da quella gabbia e da quei condizionamenti sociali che ho notato che mi sono accorto che non mi davano benessere che non mi facevano stare bene che non mi facevano vivere in una maniera naturale quindi tutte le mattine riprogrammati riprogrammiamoci tutte le mattine usiamo un linguaggio positivo cerchiamo di ridurre piano piano al minimo l'uso di parole negative di parolacce del non di tutte quelle cose che portano ad abbassare la mia autostima intanto vedo che ci sono dei commenti grazie mille sempre con tesori santi ascoltati grazie a te Elisa grazie 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 quindi è un po' questo allora dicevo se non avete delle domande possiamo passare anche oggi alla vibrazione del mantra intanto salutiamo Edo Chakra sperando di rivederlo ciao il mantra che vi sto proponendo sempre mutuandolo dalla proposta del Dalai Lama è il mantra di Tara quindi un mantra che ha lo scopo di allontanare le paure la paura le paure dalla nostra quotidianità e di guarire il corpo fisico quindi è proprio un mantra di guarigione e di compassione verso me stesso e verso gli altri il mantra vi ricordo che va vibrato quindi non basta pensare il mantra perché faccia effetto ma devo vibrarlo devo cantarlo devo recitarlo devo parlarlo o devo sentirlo perché perché faccia effetto una cosa importante è che per noi la nostra voce è quella più importante quindi il vibrare un mantra con la nostra voce ha molto più effetto che non il sentirlo vibrare da altri quindi piuttosto che una got va bene anche vibrato da altri ma se possiamo se abbiamo la possibilità di potercelo autovibrare sfruttiamola e facciamolo perché ci è utile perché ci dà un risultato molto molto più più efficace intanto forse c'è una domanda ciao Pamela anzi ciao Pamela c'è una domanda come posso fare a rimanere staccata da quelle persone che mi portano negatività in realtà è semplicissimo nel senso che il mio metodo è essere me stesso nel senso che nel momento in cui io faccio l'esempio su di me ma sempre per non offendere nessuno ma poi ovviamente cercate di ribaltarlo di rigirarlo su di voi quando io sono me stesso per forza di cose le persone che sono intorno a me sono simili a me non si scappa da questa cosa qua nel senso che io riesco ad attrarre persone negative uno se io sono negativo attraggo persone negative non c'è dubbio se io sono positivo attraggo persone positive è anche possibile che io nella mia positività attragga delle persone negative ma nel momento in cui io non do corda alla loro negatività e nel momento in cui io alla seconda volta che mi dicono oddio moriremo tutti gli dico si stai calmo moriremo tutti ma con calma ognuno per volta e ognuno a casa sua queste persone si allontanano è automatica questa cosa qua nel senso che se io do seguito sostanzialmente la negatività o le lamentere delle persone loro continueranno a tornare e a negativizzarvi e a lamentarsi con me dei loro problemi se io non gli do spazio per forza di cose queste persone o capiscono questa cosa qua o vanno a farlo da un'altra parte quindi in realtà è certo ignorandole Nadia assolutamente sì quello è il succo sì io l'ho detta un po' però quello è il succo non è semplice non ho mai detto che è semplice Roberta non è non è una cazziata ovviamente stiamo stiamo giocando e siamo qui con amore non è semplice no 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 allora il fatto che sia difficile io lo do sempre assolutamente come punto di partenza nel senso che che sia difficile lo so lo sappiamo ed è giusto saperlo non è corretto non conviene farlo diventare una scusa la metafora che io faccio sempre ciao Carlo ben arrivato è con il bambino nel senso che cominciamo a vedere i bambini innanzitutto come delle persone piccole e non come dei bambini intanto aspettate che tolgo anzi faccio togliere dalla regia il mantra di Tar i bambini appunto sono delle persone piccole sono delle persone piccole non condizionate i bambini crescendo poi si condizionano per sopravvivere alla realtà in cui si trovano seguono gli usi e i costumi della realtà che in cui si trovano ma appunto il bambino non condizionato proviamo a pensare quando abbiamo imparato a camminare noi non sapevamo camminare a stento gattonavamo ma cosa abbiamo fatto abbiamo detto abbiamo iniziato a camminare siamo caduti e abbiamo detto boh basta è troppo difficile non lo faccio più oppure non ci abbiamo neanche pensato al fatto che fosse difficile al fatto che ci fossimo fatti male al fatto che potessimo non farcela ma semplicemente ci abbiamo provato e dopo poco tempo in realtà tutti spero di non fare gaff siamo riusciti a camminare senza metterci delle gabbie senza metterci dei limiti senza avere l'autostima bassa semplicemente ci abbiamo provato e ci siamo riusciti senza condizionamenti sociali culturali o di qualunque altro tipo quindi non è facile lo sappiamo lasciamolo lì e facciamolo semplicemente quindi questo questo è questo sì questo sicuramente sì sul luogo di lavoro può essere un pochino più complicato Sabrina sono d'accordo con te nel senso che se gli amici o i conviventi li possiamo scegliere noi sul luogo di lavoro o in famiglia perché in questo caso secondo me le cose si un po' si equivalgono non li scegliamo noi in famiglia anche lì siate siamo ognuno di noi sia se stesso e vedrete che le cose in un modo o nell'altro cambiano e si andrà sicuramente verso il verso il bello e verso il positivo sul luogo di lavoro identifichiamolo come un luogo di lavoro nel senso che quello non è il luogo della mia vita non è il luogo della mia felicità non per forza è un luogo di crescita spirituale o di alzamento di livello di coscienza se il lavoro non ci piace se il luogo di lavoro non ci piace se i colleghi non ci piacciono vediamoli troviamoli un aspetto positivo l'aspetto positivo del lavorare è che mi permette di comprarmi questa tazza qua mi permette di avere un tetto sopra la testa mi permette di avere un computer o un cellulare su cui guardare questi bellissimi video eccetera eccetera a tutta la nostra realtà è un bel gioco facciamolo e continuiamo a farlo perché ci darà molte molte soddisfazioni dipende da quanto siamo troppo coinvolti affettivamente sì sono d'accordo Laura ma anche quella è una scelta nel senso che l'affettività non è una scelta nel senso che l'amore potrebbe non essere una scelta ma la convivenza è una scelta la convivenza nel senso la frequentazione è una scelta e l'amore va oltre la frequentazione va oltre la convivenza va oltre tutta questa roba qua nel senso che io posso serenamente continuare ad amare qualcuno qualcosa qualche collega qualche amico qualche familiare qualche uomo qualche donna ma senza frequentarlo più nel senso che il contrario della frequentazione non è l'odio ecco assolutamente no quindi anche quello anche quello è una scelta tipo lavoro come posso proteggere penso di averti già risposto Carla se hai una domanda più specifica poi magari fammela fammela in privato che poi ti rispondo con calma o in privato o nella prossima nella prossima diretta cerchiamo di essere noi stessi cerchiamo di utilizzare meno maschere possibili tralascio qualunque tipo di battuta sull'uso delle mascherine ma se io è chiaro che se io ho una maschera per quando sono all'interno della famiglia di origine se io ho una maschera per quando sono al lavoro se io ho una maschera per quando sono con la fidanzata col fidanzato col figlio con la mamma con la nonna col cane col gatto diventa complicato nel senso che allora poi poi diventa difficile a livello emozionale gestire tutta quella roba lì mentre se io sono me stesso innanzitutto mi semplifico molto molto la vita nel senso che devo semplicemente esprimere me stesso senza sforzarmi di accorgermi dove sono e con chi sono e poi e basta quindi questo è semplicemente nel senso che cerchiamo di essere noi stessi ecco con tutta la bellezza che questo comporta Roberto l'ha inviata beh finché invia un beautiful direi che la accogliamo con gioia con piacere assolutamente sì più lavori sulla quiete della mente più ti senti libero assolutamente assolutamente taglia sì è proprio così quello è nel senso che la pace mentale è il segreto è l'avere il pensiero ed emozioni in equilibrio ricordandoci sempre che è il linguaggio a influenzare tutta questa roba qua per quello che è importantissimo sfruttarlo a nostro favore e non a nostro sfavore quindi sì assolutamente sì ricordo sempre che la la parola mantra che adesso andremo a vibrare insieme vuol dire esattamente questa cosa qua mana mente traia liberazione quindi liberare la mente dalla negatività e dall'accumulo di pensieri ed emozioni oh ciao lilli ben arrivata anche tu dall'india abbiamo un sacco di persone dall'india oggi siamo tra indiani e non indiani quindi siamo veramente super 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 international poi manderemo una copia di questo all'ONU per fare vedere che si può andare d'accordo senza bombe e senza bombe nucleari o chimiche o biologiche o batteriologiche in totale e soluta libertà ok allora no c'è qualche domanda sì allora Sonia e se il lamentoso tutto il giorno è proprio figlio come conciliare l'uomo educativo soprattutto se è adolescente e adesso qua apriamo un capitolo aspettate che apriamo un capitolo molto ampio parlagli in maniera positiva o semplicemente lascialo negativizzare o vivere la sua adolescenza per i fatti suoi uscire mi rendo conto che sto per dire una cosa forse un po' difficile da accettare soprattutto per condizionamenti sociali delle mamme ma uscire dal ruolo di mamma è fondamentale per poter stare bene con se stesse e per poter far stare bene i figli perché nel momento in cui io esco dal ruolo di mamma ma sono un ruolo di persona con accanto un'altra persona do molta più responsabilità a questa persona do a questa persona in questo caso il figlio Sonia di assumersi la responsabilità delle proprie lamentele semplicemente non devi essere tu il parafulmine o la calamita delle sue lamentele con molta 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 semplicità quando sei te stesso Nadia quando sei te stesso c'è una sorta di selezione naturale delle persone che circondano la tua vita l'unica cosa è che delle volte devi essere pronto a rimanere solo sì è così certo certo il coraggio il coraggio di essere se stessi è quello lì però in italiano si dice meglio soli che mal accompagnati no è la verità nel senso che se il non essere da soli per non stare da solo mi porta a circondarmi di persone negative o che mi fanno stare male tanto vale essere da soli teniamo sempre sempre bene in mente che una volta che io conosco me stesso e che una volta io accetto e amo me stesso io non sono mai da solo io sono sempre con me stesso che fa differenza nel sentirsi solo o nel sentirsi da solo soprattutto in questi giorni le preposizioni soprattutto la preposizione per e con secondo me hanno molto molto valore e spesso vengono confuse sempre da quella famosa disinformazione di massa che ci circonda quindi stiamo da soli stiamo con noi stessi amiamo noi stessi e sicuramente poi troveremo delle persone affini su quello non c'è non c'è assolutamente non c'è assolutamente dubbio siamo persone certo certo Roby è così certo sì sì ma così come anche i figli nel senso che poi adesso ho detto mamme perché vale per papà vale per la zia vale per il nonno vale per il figlio se io mi identifico con il ruolo che svolgo diventa un problema primo perché quel ruolo lì come tutte le cose umane finisce quindi prima o poi finirà nei fatti il mio ruolo di mamma il mio ruolo di figlio il mio ruolo di operaio il mio ruolo di massaggiatore il mio ruolo di qualunque cosa quindi identifichiamoci con noi stessi quella è l'unica vera identificazione o appunto individuazione che devo perseguire per poter per poter stare bene insomma ecco quindi quindi questo questo è un po' è un po' il mio punto di vista sulla sulla faccenda e sulla questione vedo se stanno arrivando altre da sola sto bene esatto brava Silvia certo certo ricordandoci sempre che io non non auspico e non sono per la vita in isolamento e solitaria perché la vera secondo me sempre secondo me vale tanto quanto è difficile nel senso che lo tengo lì e lo do per scontato che sia così appunto vivere l'esperienza in mezzo ad altre persone è quello che determina il mio livello di coscienza perché finché sto da solo è facile stare bene non farsi condizionare negativamente eccetera eccetera diventa più complicato quando sono nella realtà c'è una bella frase del Dalai Lama che dice chi dice di essere illuminato dovrebbe prima aver provato a trascorrere una notte in una stanza con una zanzara ed è la realtà nel senso che è lì che ci accorgiamo quanto un esserino minuscolo possa turbare la nostra realtà e la nostra salute e tranquillità e tranquillità psicofisica ecco quindi se una zanzara può turbarci così tanto figuratevi poi le persone però è proprio lì che si vede quanto io sia abbia riesco a mantenere alto il mio livello di coscienza e la mia tranquillità e la mia quiete e la mia quiete mentale assolutamente sì da solo sto benissimo anch'io sto scoprendolo bene bravo sono molto molto contento per voi ciao Giovanna allora vedo che mi state mandando messaggi su altri canali che non sono la chat non li vado a recuperare adesso perché sennò mi incasino un po' qui con lo schermo adesso capisco perché quelli professional hanno tre o quattro schermi io non sono così professional vi risponderò dopo con calma o come al solito poi nella nella prossima diretta vi risponderò alle vostre domande o ai vostri commenti intanto incomincio ad anticiparvi quando sarà la prossima diretta a proposito di professionismo ecco la prossima diretta sarà martedì 24 marzo alle ore 21 vi ricordo che gli appuntamenti sono sempre martedì alle 21 venerdì alle 21 e domenica alle 17 almeno finché Daddy Conte ci ordinerà ci raccomanderà di stare in casa quindi poi dopo dopo vedremo e magari qualche diretta la manterrò però vediamo insomma vediamo un po' il da fare e il proseguio dell'evolversi l'evolversi della situazione allora ci avviamo anche perché siamo già l'oretta superata e vi ringrazio per aver sempre per ascoltarmi per partecipare così numerosi a questi momenti sposto il microfono dal mala fatemi allora bello questo va bene per me farò tantissimo esatto allora prepariamoci appunto a vibrare insieme il mantra di Tara che ripeto per le persone che sono appena arrivate è un mantra che aiuta a liberarsi ad allontanare le paure dai nostri stressi dalla nostra mente dal nostro corpo che aiuta a guarire il corpo fisico che genera che genera benessere che invoca l'energia della compassione dell'amore universale per se stessi e per gli altri il mantra lo vibreremo 108 volte come sempre in queste settimane non vi preoccupate se siete preoccupati ci vorranno circa 8-10 minuti se lo avete vi invito a prendere il vostro mala il vostro giapa mala per sgranare insieme a me i grani i semi del mala per tenere il conto di queste 108 volte la mia proposta è di farlo una volta per uno quindi ce lo palleggiamo una volta lo ripeterò io a voce alta una volta fatelo voi a voce alta scegliete voi se farlo cantato o se farlo vibrato recitato naturalmente non la vi viete di farlo tutte 108 le volte nel senso che potete tranquillamente ripeterlo 108 volte non serve ripeterlo 108 volte tutte le volte ma è sicuramente molto molto utile farlo in numero di 108 o multiplo di 108 per perché sia più efficace perché abbia una liberazione una tranquillità mentale una pace mentale una serenità mentale una quiete mentale molto più incisiva molto più elevata il mantra appunto è om om tare tuttare ture soha vi invito sempre a fare l'espiro l'espirazione durante il soha quindi soha proprio come ad allontanare a mandare fuori le negatività la paura e tutto ciò che ci fa star male o che ci turba o che ci metta ansia o o tensio ti invito a scegliere una posizione comoda ti invito visto anche appunto il tempo relativamente limitato di una decina di minuti a stare seduto con le ginocchia larghe nella posizione del loto con la schiena dritta in modo da permettere alle nostre energie vitali alla kundalini di fluire liberamente attraverso tutti e sette i nostri chakra se proprio sei scomodo se hai dolori o non hai voglia di stare seduto va benissimo anche in qualunque altra posizione sempre tenendo a mente però che l'ideale sarebbe riuscire o provare a rimanere a rimanere seduti ti invito a socchiudere delicatamente i tuoi occhi e a fare due respiri profondi e consapevoli ispirando porta l'attenzione dentro di te ed ispirando allontana ogni tensione facciamo ancora un bel respiro profondo e armonico e gioioso tutti insieme o om tare tut tare tu res o ha om tare tut tare tu re so ha om tare tut tare tu re Sì, non so. Om tare tuttare ture so ha. 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 Ommantare tuttare ture so ha! 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 Om Tare Tuttare Ture So Ha 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 Om Tare Tuttare 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 T molto lentamente torna in possesso del tuo corpo torna consapevole del qui e ora e delicatamente riapri i tuoi occhi e spero che come al solito tutti stiate ritornando in possesso del vostro corpo e della vostra mente che state che stiate tornando gioiosamente nel qui e ora e sul pianeta Terra grazie Manoji, dei complimenti e grazie per aver partecipato intanto vi ricordo che questa diretta sarà subito disponibile per chi si fosse collegato non puntuale o se avete voglia di condividerla con vostri amici parenti o con chiunque altro questa diretta sarà subito disponibile sul canale sulla pagina facebook concerto meditativo e tra qualche giorno sarà poi disponibile anche sul canale youtube vi invito sempre ad iscrivervi al canale youtube Edoardo Ciconi e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video e su tutte le novità che pubblicherò su quel canale insomma e soprattutto poi troverete anche delle meditazioni guidate assolutamente gratuiti. grazie grazie a tutti voi anche per aver partecipato allora la prossima diretta sarà martedì 24 marzo alle ore 21 qualunque domanda qualunque condivisione scrivetemela su whatsapp su messenger per email piccione viaggiatore non tralasciamo la telepatia qualunque canale sentitevi assolutamente libera liberi di usarlo e di comunicare di comunicare con me. l'argomento di oggi era linguaggio e chakra e sistema immunitario l'argomento di martedì sarà silenzio e chakra e sistema immunitario nel senso che ho parlato per un'ora abbondante dell'importanza del linguaggio positivo la prossima volta parlerò dell'importanza del silenzio che non è vuoto ma è silenzio ma no spoiler ne parleremo ne parleremo insieme martedì. grazie sabrina grazie manu grazie pamela insomma grazie a tutti sono tanti grazie ringrazio ringrazio voi ringrazio voi spero di vedervi martedì 24 marzo alle ore 21 e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale youtube edoardo cicconi vi lascio con il solito messaggio positivo cioè di non credere al messaggio di terrore e di paura e di distruzione di sterminio e di fine del mondo del conosciuto e dello sconosciuto che stanno passando sui tutti i media in questi giorni il messaggio è che non è la fine ad essere vicina ma è l'inizio ad essere sempre vicino un nuovo inizio è sempre vicino è sempre possibile a patto che noi scegliamo di intraprendere quel percorso abbiamo il coraggio di fare quel percorso e di scegliere di evolvere e di non adattarci di non scegliere di non adattarci alla situazione ma appunto un adattamento continuo una evoluzione continua e una rinascita continua grazie ancora buona domenica sera fuori e dentro il viaggio continua namaste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti